Che è la spinta a finire oggi qua a Campidogno? L'immenso amore per la Roma e sti sozzoni qui se permettono uno straniero viene qui da fo... perché per me è uno straniero con i capelli sozzi così e viene qua e dice qui non sarà fa niente. Possa via sotto... Poi dici ma viacchiglia da un'ombra... Ma faccio un po' di arte, hai capito?